Gli atleti paralimpici e non vedenti è stato detto hanno qualcosa in più, non qualcosa in meno. Sì, questo è vero, perché danno veramente un senso di appartenenza allo sport, una voglia di fare, di affrontare la vita, che è una manifestazione che bisogna vedere dal vivo per capirlo. Così l'ex presidente di Univa, oggi con Findusia Varese, Marino Vago, succeduto al padre Cesare, alla presidenza della Propatria Scherma, alla scomparsa del presidentissimo, invita a seguire la seconda prova nazionale e paralimpiche non vedenti, in calendario sabato 3 e domenica 4 febbraio, a partire dalle 9, con ingresso libero all'Accademia della Scherma in Via Galvani a Busto. Lei ha anche detto che con le nuove normative ISG potrebbe crescere il supporto a questo tipo di manifestazioni sportive e sociali. Sì, questo è vero, perché viene data attenzione e visibilità a tutto quello che viene fatto in senso lato per la comunità. Molto spesso gli imprenditori facevano le cose e le tenevano riservate. Adesso con le nuove regole in cui bisogna rendicontare, cosa si fa anche per la comunità, si bisogna dare evidenza. Quindi è uno dei fattori che potrebbe contribuire a promuovere tutto questo genere di attività.